E in Italia adesso per parlare delle polemiche legate alla TAP, la multinazionale che dovrebbe costruire il gasdotto che toccherebbe anche il Salento e nel Salento proprio cittadini e ambientalisti sono in maggioranza contrari a quest'opera, tanto che la TAP, la multinazionale ha stanziato soldi, molti soldi per una campagna, imponente campagna di comunicazione proprio per far accettare questa opera, ma ci sono parecchi no e uno dei no è arrivato anche dal Vescovo di Lecce. Cercano di comprare il nostro consenso ma noi non siamo in vendita, la posizione dell'Arcivescovo di Lecce Domenico D'Ambrosio è chiara nel rifiutare le offerte della TAP che vorrebbe sponsorizzare le feste patronali nel Salento, un modo secondo il Vescovo e una parte della cittadinanza per convincerli della bontà del megaprogetto che dovrebbe trasportare gas naturale dall'Azerbaijan all'Europa e che prevede l'approdo sulla costa salentina. Una strategia quella che sta cercando di seguire la multinazionale svizzera TAP per placare le polemiche sulla realizzazione del gasdotto che dovrebbe attraversare una delle spiagge più pregiate della Puglia. Da tempo i cittadini si sono riuniti in un comitato per dire no a quella infrastruttura dal costo di 40 miliardi di euro che deturperebbe il territorio e l'anima turistica del Salento. Dopo il no della regione che ritiene inadeguato il progetto in quella zona lungo il litorale di San Foca si attende l'ultima parola che aspetta il Ministero dell'Ambiente e che dovrebbe arrivare entro la fine del mese. Ma quella bocciatura pesa come un macigno sulla TAP che per questo ha pensato di tenere viva la questione e rendere più appetibile l'estate salentina. Lo ha fatto cominciando con la festa dei Santi Pietro e Paolo di Galatina, 5 mila euro e in cambio il logo della TAP sui manifesti che hanno tappezzato la cittadina. Poi è stata la festa di Santa Domenica Scorrano conosciuta in tutto il mondo e che ogni anno regala l'emozione delle luminarie che si accendono a suon di musica e dove quest'anno ad accendersi è stato anche il logo della società. Ma c'è anche chi ha detto no grazie. È il caso di Lecce dove il sindaco Paolo Perrone ha rifiutato le offerte per la festa del suo patrono Santo Ronzo e c'è da scommettere che altri sindaci presto seguiranno questo esempio. Sarebbero in tutto 350 mila euro i soldi stanziati dalla TAP per finanziare l'estate nel Salento. La strategia non si ferma però alle feste patronali. La TAP ha previsto anche la distribuzione sulle spiagge dei tagliandi Gratta e Vinci per un concorso che ha messo in palio alcuni soggiorni nelle località più belle del Salento. E sarà sempre la TAP ad assicurare il disco in bus, ovvero il servizio navetta, dalle località di villeggiatura ai locali notturni della costa adriatica ionica. I no TAP parlano di un'operazione simpatia impropria. Molti cittadini pensano che possa essere un'elemosina. insomma una polemica e un confronto che rilangono forti e che in quest'estate non conosce, come vediamo, una vacanza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.